buonasera a tutti ragazzi buonasera a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video pre partita per il napoli tra poco meno di 24 ore napoli scenderà in campo allo stadio diego armando maradona e ospiterà la salernitana domani potrebbe essere la giornata in cui il napoli potrebbe diventare più non ce la faccio a dire quella parola non ce la faccio ancora nel trattenermi mi viene la pelle d'oca solo a pensare a quella parola accostare la parola a napoli ma vabbè no freedom goal mi viene un'emozione tremenda che non solo passeggiare per strada ti viene l'emozione il fatto che tu non ci credi che napoli ha raggiunto un certo traguardo lontano 33 anni però non è ancora fatta quindi stiamo calmi stiamo calmi e pensiamo alla salernitana pensiamo alla salernitana che pur sempre una partita importante è pur sempre una partita in cui il napoli è obbligato a fare punti dopo aver aspettato la partita interlazio infatti noi viviamo due partite interlazio e napoli sanitana perché tutto il nostro destino finale dipende dalla partita della mezza però calma comunque scusatemi iscrivetevi ragazzi commentate il vostro pensiero mettete vi piace perché più mi piace ottiene questo video più si spera si dice vada nei correlati di altri e ci vediamo stasera in live ok per la live gufession commentary gufentary chiamiamola come ci vogliamo insomma passiamo due tre ore insieme vicini vicini piccini piccio a vedere roma milan la lotta per per l'europa ok comunque lasciano stare lo spam delle live io leggo forse troppa convinzione che l'inter possa fare risultato con la lazio o vittoria o pareggio io so del parere che indipendentemente da quello che potrà succedere a milano tu devi pensare a te stesso ok tu devi pensare a te stesso devi seguire la tua strada devi avere la stessa voglia la stessa grinta la stessa determinazione che abbiamo visto negli ultime nelle ultime partite soprattutto nel secondo tempo con la juve soprattutto nella partita nelle varie partite precedenti quindi stessa 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 voglia ok e qua mi viene in mente la frase di spalletti che che praticamente disse un paio di conferenze stampa fa una frase che praticamente come dire risuona nelle nostre teste si legge nel web e la frase praticamente occhi puntate alle stelle ma piedi ben saldi a terra ed è una frase emblematica una frase veritiera una frase che ok tu puoi sognare puoi esaltarti puoi festeggiare puoi festeggiare perché dopo dopo torino non dopo vittoria di torino non si è capito chiumu cazzo ok giustamente solito solite soliti video napoletani senza cash con napoletani che cazzo festeggiate vabbè però poi il giorno dopo tutti testa bassa e subito pedalare perché come ha detto anche scusate anche oggi spalletti noi dobbiamo fare pur sempre un punto in più che dobbiamo sempre fare i punti fin quando la matematica non ci dà la certezza e te ne raggiungi te ne raggiungi e poi al di là di questo la conferenza stampa è stata molto blanda conferenza stampa l'ho sentita un po' però poi ho riletto ancora le risposte le risposte sono solite cose abbiamo fatto un ottimo cammino il masso non si sa se gioca non ha dato nessuna nessuno spoiler di formazione ha elogiato la salernitana dicendo che si è comportato un po' alla guardiola diciamo così comunque ha elogiato un po' la salernitana dicendo gli orvolini stanno facendo un ottimo lavoro potrebbero avere un futuro roseo e sono da sette risultati utili positivi e che paolo sosa è un'ottima allenatura quindi ok il conturno che sta fuori con festoni striscioni bandiere tutto il resto però la partita si deve ancora giocare una frase mi ha colpito di spalletti oggi in conferenza stampa ed è la seguente se vuoi dimostrare di voler bene a qualcuno devi dedicargli il tuo tempo io e i miei calciatori abbiamo dedicato molto tempo al napoli quindi è una frase che racchiude l'aver avuto voglia di raggiungere questo obiettivo ok l'aver avuto voglia un obiettivo che torna a ripetere quello detto prima possa realizzarsi domani però vedremo vedremo un po' comunque mi fa ridere che tutti dicono a noi non ce ne fotte dello scudettino voi festeggiate pure lo scudettino e poi ci sono tifoserie non tutti che festeggiano un raggiungimento di una semifinale di champions non la vittoria della coppa ma la semifinale quindi deve fare altre tre partite per vincere quel trofeo cioè quelli là che festeggiano il raggiungimento della semifinale e l'eventuale finale se non vincono il titolo questi commenti cioè invecchieranno malissimo invecchieranno malissimo poi il noto giornale che non faccio nomi che praticamente mette mette il titolo a lettere cubitali napoli verso il terzo titolo la festa scudetto pagata con reddito di cittadinanza per non parlare poi delle minacce a bergamo a varesi a salerna davlin in tanti posti per dire per dire voi qua non potete festeggiare e che siete voi che siete voi che siete voi che siete voi voi sti persone queste persone sono la carta igienica la carta igienica ci puliziamo il culo con queste vostre parole ok per quanto mi riguarda io come ho risposto su instagram ognuno deve avere la libertà di esprimere la propria gioia deve festeggiare nel più rispetto possibile ok la vittoria della propria squadra e questo vale per tutti questo vale anche per molti napoletani che non ti fanno napoli juventini napoletani juventini napoletani milanisti napoletani interisti che in questi anni hanno festeggiato a go go a go go che purtroppo episodi spiacevoli sono accaduti purtroppo accadranno io più che dire voglio non facci me scema voglio fregate bene voglio ci vestire rispetto io più di questo più che dire mi dissocio che sembra un sembra un cliché questa frase mi dissocio ma io più di questo un bozzo fa io cerco sempre di trasmettere la la sportività la realtà il rispetto verso gli avversari infatti mi avete visto pochissimo nel fare video sfottere per sfottere gli avversari mi avete visto pochi qualche shorts è capitato perché mi è venuto dal cuo è capitato però alla fine non è che insisto sulla strada dello sfottò o sull'offesa perché ragazzi twitter è diventato un manicomio cioè in milan twitter lo juventus twitter la valina twitter salernità twitter cioè i tifosi di quelle fede calci twitter è diventato invivibile è diventato ridicolo è diventato pieno di 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 frustrati che inizialmente hanno detto hanno un giro futuro scudetto però sono i primi che commentano e che giudicano e che fanno tutta l'erba un fascio e non va bene questo non va bene comunque speriamo di festeggiare domani però voglio pure se la Lazio dovesse fare risultato e vincere a milano non è che ci dobbiamo insomma preoccupare allarmare per esempio pure spalletti ha detto pure se non dovessimo vincere io ho letto allarmismi ho letto che ci potrebbero essere critiche ma siamo seri siamo seri bisogna tenere in mente che la Lazio può fare risultato ma tu devi pensare a te stesso tu devi pensare a te stesso non non tanto agli altri ma a te stesso ok poi seppure gli altri inciampano bene così ok quindi che poi vabbè sarri voglio sarri ho letto una piccola rosicatura velata che dice sarri avverte in napoli noi dobbiamo pensare alla nostra partita la tavola è stata apparecchiata per la festa cioè per la nostra sconfitta ma anche un pareggio andrebbe bene noi dobbiamo fare il massimo il napoli festeggerà lo stesso ma speriamo il più tardi possibile ecco una piccola rosicatura velata ci sta l'ho sentita un po di rosicatura da parte di da parte di sarri ma ho letto rosicatura un po da tutti da pioli che ha detto meritavamo di più da allegri che dopo jume mapo gli ha detto finalmente vedete un po di rosicature di campo ci stanno assolutamente quindi non non sono un tipo che li offende sono un tipo che sorride a queste uscite ultima cosa prima di chiudere spalletti ha detto che lo spostamento non è stato fatto per loro volontà e io chi mi conosce e chi mi segue su instagram pertanto seguitemi su instagram perché io sono sempre stato corrente su questa cosa io sono sempre stato contro lo spostamento sempre 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 perché poi dovevi spostare altre partite infatti udinese napoli e mi pare udinese sampdori è stata spostata quindi spostamenti 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 eccetera eccetera ok infatti pura preparazione diversa pure spalletti ha detto ok noi abbiamo appena abbiamo saputo che la partita è stata spostata noi abbiamo cambiato i nostri metodi di preparazione purtroppo lui ha detto ma io vado a pensare che è stata spostata per ordine pubblico perché nella stessa zona e chi è di fuori grotta napoli lo sa c'è il comicon c'è la mostra d'ottremare che io purtroppo questa non ci vado ma praticamente qua sta il comicon mostra dottremare e qua c'è lo stadio san paolo cioè è vicina è vicino quindi potrebbero esserci potrebbero potrebbero esserci casine quindi per evitare ciò però un po' incoerente perché il comicon dovrebbe terminare mi pare lunedì mi sembri più ma comunque vedremo un po' ragazzi basta polemiche basta sfottere basta rimarcare l'odio che gli altri fanno a noi e anche noi facciamo a loro quindi è un botto e risposta che io sinceramente non ci metto bocca solo se mi colpiscono a me personalmente rispondo un saluto a tutti forza napoli sempre calma siamo calmi stiamo fottutamente calmi ciao a io a stasera ai 5 e mezzo in live ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti